Siamo con Federica Brancaccio, Presidente ACEN. Presidente, quanto è importante parlare di certe tematiche attraverso l'arte, attraverso il dibattito pubblico per aiutare gli imprenditori in difficoltà? Ma è importante parlarne anche attraverso l'arte, l'arte ovviamente è un veicolo fondamentale perché colpisce anche fasce di persone diverse magari dal mondo più strettamente imprenditoriale che quindi seguono in diretta la crisi. La crisi dura da dieci anni, è una crisi devastante che ha lasciato morti e feriti ma nel vero senso della parola. Nel settore dell'edilizia noi abbiamo perso circa 700.000 posti di lavoro negli ultimi dieci anni e 120.000 imprese e ad oggi non si vedono ancora misure per invertire questa tendenza.